Sì, richiesti e obiettivi raggiunti. Anche quest'anno per quello che mi riguarda ho fatto il massimo. Poi poteva arrivare prima, poteva arrivare giovedì a Civitanova. Non è stato facile nel percorso. Siamo partiti bene da quando sono arrivato, poi dopo c'è stato un leggero calo che ci può stare. Poi ci sono state queste tre partite dove qualche episodio ci ha girato male. Dopo un lungo rincorrere abbiamo mollato la presa e subito i risultati ci hanno dato contro. Oggi serviva fare questa partita qui, non bella, però con tanta determinazione, tanto carattere. Perché comunque nei momenti di bisogno questa squadra ha fatto sempre vedere che a carattere non mancava. Magari poteva mancare altre cose, un pochino di tecnica, un pochino di spunto, però il carattere l'ha sempre mostrato. Non era facile perché con l'ambiente così capisco, entro nella testa dei ragazzi e capisco che fare un passaggio, fare un tiro, prendere le decisioni. Non era la partita una migliore, considerando che comunque di fronte secondo me eravamo un'ottima squadra che il primo tempo ha giocato molto bene. Poi il secondo un attimino è calata fisicamente. Però, ripeto, noi dobbiamo fare questa partita con le mani alle orecchie e il cuore davanti a tutto.